Sappiamo già che Mail in Boss è uno dei software per email marketing più solidi e robusti e con le migliori prestazioni. Mail in Boss batte tutti i concorrenti per quanto riguarda il numero di mail consegnate grazie alla sua esclusiva tecnologia di delivery. Già conosci, Mail in Boss è l'unico strumento illimitato numero di leads e di inviti, facendo di risparmiare centinaia di euro ogni mese, come sai anche tu. Ora, quello che potresti non sapere ancora è che Builderall 5.0 ha un nuovo Mail in Boss, molto più potente, con molte più funzionalità e molto più intuitivo. La nuova interfaccia di Mail in Boss è molto più intuitiva ed è stata sviluppata tenendo conto delle migliaia di feedback che i nostri utenti ci hanno fornito negli ultimi due anni. La nuova interfaccia ottimizzata è molto più semplice per un nuovo utente della piattaforma utilizzare Mail in Boss in maniera efficace, ad esempio creando una campagna email in soli tre clic. Nel nuovo disegnatore di flussi di lavoro l'utente è anche in grado di creare sequenze, funnel, automazioni e campagne senza mai uscire dal flusso di lavoro, rendendo il lavoro molto più semplice, veloce e visivo. Una grande novità di Mail in Boss 5.0 è che i lead non appartengono più alle liste, ma agli account. Un'email acquisita in cinque liste diverse conterà per te come un solo indirizzo email con cinque segmenti diversi. Questo ti darà la libertà di combinare i tuoi contatti in qualsiasi campagna con un sistema di filtraggio e segmentazione più completo ed efficiente. E quando crei e invii una campagna, ora sarai in grado di seguire i risultati in tempo reale e valutare le prestazioni della tua campagna secondo per secondo mentre viene inviata, consentendo così azioni più rapide da parte tua in base alle azioni del tuo pubblico. E un'altra novità richiesta da tempo anche dai nostri utenti, di cui è stato possibile occuparsi solo ora, viste tutte le nuove tecnologie di Mail in Boss, è un sistema di moduli multipli per ogni singola lista, offrendo così la possibilità di avere un'unica lista email, ma con moduli di acquisizione differenti, pagine di conferma in attesa e pagine di ringraziamento differenti. A tutto questo va aggiunta la nuova infrastruttura, tutta riprogettata per sopportare campagne ad alto volume e un account con migliaia di lead. Oggi Mail in Boss è uno dei motivi principali per cui centinaia di utenti migrano a Builderall ogni giorno e con il lancio di Builderall 5.0 siamo più che mai pronti a servire i professionisti del marketing digitale più esigenti con totale efficienza e qualità.